Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli e Ginestra, un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Chiusa l'uscita di Montelupo-Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, sempre per lavori e rallentamenti tra Montopoli, Pontedera, Ovest, Polsacco in direzione mare. Ci sono poi code a tratti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze-Scandicci. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Fabro e Firenze Sud, tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico e rallentamenti tra Barberino del Mugello e Aglio. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!